Il centro universitario sportivo dell'Aquila mette i lucchetti al campo da rugby sul quale si allena la sezione della pallovale che disputa il campionato nazionale di C1 e che conta 150 iscritti. Un paradosso se vogliamo il CUS ha sfrattato infatti il CUS rugby a causa di pendenze che quest'ultima avrebbe nei confronti della direzione centrale per circa 8.000 euro. Ma si ribatte come avere debiti con se stessi. Su iniziativa del consigliere comunale Alessandro Mucciante, non a caso regbista praticante, la vicenda è approdata anche in terza commissione del Comune dell'Aquila dove è stato ascoltato il presidente del CUS Francesco Bizzarri che resta a dir poco fermo nelle sue posizioni. Ma sarà riaperto perché sono tante persone che vogliono giocare a rugby, tanti ragazzi? Ma se vogliono venire come tutti gli impianti e pagano la quota che gli spettano, non c'è nessun motivo, per quale problema? Se poi qualcuno mi dirà che io li devo dare gratis, che me lo dica? Non possono utilizzare loro il campo perché sono debitori di una certa cifra. Per cui qualcuno mi deve dire come si deve coprire e chi la paga. La sezione rugby risponde però a muso duro. Tanti sono i lavori di ripristino fatti dagli associati e anche progetti di integrazione sociale e accusano il CUS di chiedere tariffe troppo esose. Lasciando di fatto più di 150 tesserati senza un punto di aggregazione, uno spazio dove allenarsi e lasciandoli di fatto per strada. Ci tengo a precisare tra l'altro che tra le tesserati del CUS ci sono tantissimi ragazzi delle case famiglia, di Tempera e di Sanzisto che avevano aderito lo scorso anno al progetto Rugby Senza Frontiere. Per la cronaca la terza commissione si è conclusa con un nulla di fatto. Le posizioni restano infatti distanti, i consiglieri si sono limitati a fare appello al buonsenso, a trovare un accordo, a non perdere mai di vista gli imperituri valori dello sport e della coesione sociale. Grazie per la visione!